Benvenuti a un nuovo Let's Play di Saints Row, mi trovo in una città particolarmente interessante. Il colpo del signor Gatt è un saggio che si pone in sinistra. Nessuna petassola è morta, non compiacete il vostro amico, lo raggiungerete presto, ma vaffanculo! Che cazzo si pagherà? Ma che cazzo di Loren? Me lo sta chiedendo? Steelport? Ehm... Ma l'alcanza? Chi sa cosa ci faceva qua? Ma guarda un po'. Ehm... Ehm... So... Ehm... 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 Oh, beh, sei un caino. Ehm... mappa... Oh, beh. Io sono potente. Ehm... Dai, vengalo, diamo... Diamo a friendly fire. Ehm... Stupido, lasso, dai, stupido. Ehm... Ehm... E non sono l'unico a pensare. Ehm... 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 Che pro che sono a guidare. Per me. Sono un pro, guarda. Ehm... 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 Ok, prendiamo questo, va. Quindi ora andiamo a fare un po' di casino all'armeria. Che sarebbe in teoria a... Ehm... Dove tengono le armi. Ehm... 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 No, ma perché io ve lo farei? No, non è possibile! Sto portando le mie abilità! Cazzo, pura figa la strada, come riflessi. Non è importanza. Guardami a mandare a... ...propare un po' di armi, da quello che ho capito. Ah, sì. A che cazzo serve? Non lo so, ma lo faccio perché lo devo fare. E sì. This is my run! Dai, che cazzo, che cazzo. Riena più tardi, dai. Ah, è un piccolo giro un pro. Cazzo, questo dovrebbe essere sufficiente. Ma come stiamo fuori? Eh, lo so. Credevatevi. Ehi, ehi, ehi. Neanche i cancelli sarà un po' bene per me. Cosa crederai fare? Illusi? Ora muori te dirutti e foglia di colpi nel culo. Oh, cazzo. Tu cosa crederai fare? Ora è meglio di usare come scudo umano. Le mie fanno sempre cambiare l'idea. Ma che... dove cazzo? Eccoti qua, ma l'ho stato dietro la mia schiena. Perché non ti avevo visto? Come osi tu, brutto bastardo. Nooo... 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 C'è un giro vivo. Come è possibile stanno? Nooo... E che cazzo? Tu... Tu... Come osi... Intrometterti nelle nostre faccende personali. Insomma... Non cagate cazzo se non abbiamo un po' di armi, cazzo. Non abbiamo neanche una, cazzo. E che cazzo? Nooo... Ma che cazzo, tu hai detto... Nooo... Ma dai... Uai tu... E... Com'è che andata da da far? E... Il lun, siiii... Puera tutto. C'è che andata da far, eh? Ma vai a fare un culo, un colpo nel culo. Oh mamma, io fai rinculo! Ok, basta. Scusatemi, è inevitabile. Cosa? Nooo, non è possibile. Ehm, cos'è che devo fare? Uh, cos'è quello? Non posso prenderlo come cazzo? Affanculo, non li voglio più! Dove cazzo sei? Tu! Non dovresti essere qui! E neanche tu! Oh cazzo, ce n'è uno, ma dove cazzo spubi tu? I know that... Too much skill! Con lo scudo! Lo scudo! Cosa crede di fare con lo scudo? Non è abbastanza! Serve di più! La prossima volta portatevi pure il... Lancia cazzi! Sì! Ma neanche con quello ci ammazzate, perché siamo troppo pro! Oh cazzo, mira di merda! Sì! Ma guarda, se ne accorto adesso! Ma guarda, arriva nei forzi! Siete tutti votati! Ha 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 ha! Sei entrando in merda, c'è solo la mia... Ma che è che sono i ragazzi? Sì! Che figo! Nooo! Ehm... Missile guidato! Tasto destro! Odio, il tasto destro! Dai, sta funzionando! E c'è qualcosa... Che figo! Nooo! Mi sa che quelli... No! Stavo per beccare il mio amico! Ehm... Adesso... Adesso... Ah, c'è nessun altro? Ok! Tu! Ah, c'è nessun altro? Ok! Tu! Non puoi essere qui! Non puoi essere qui! Sì! E non ci rimarrai per molto! Che cazzo! Oh no! Un carro armato! Ma cosa? Tutto per delle pottute armi! Ma hai un satellite? Dicati! Wow! Complimenti per la fantasia! Lo ribadisco! Cazzo ma ciò! Devo andare più in là! Tu non puoi andare avanti! Tu non puoi passare! Tu non puoi andare! Neanche tu! All right, bitch! Quindi... Ciao ciao! E' stato bello con amicizia! E' stato bello con amicizia! Ma purtroppo! Le amicizie finiscono prima o poi! Non durano tutta la vita! Solo alcune! Ma questa non è una di quelle! Mi dispiace ragazzo farmi tutte queste cose! Non sono io! Non aver deciso di fare questa vita! Oh shit! Oh che culo! Sa! 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 Undatene a fanculo! Voi due! Non avete speranza! Ciao ciao! Io me ne vado! Oh! Che cazzo ci faccio sull'epicotteri? Ah, stanno trasportando l'unizio. Forte! Oh no, è la tipa! Vai avanti Bert, lo stiamo eliminando! Oh, dai perdi Bert... Cazzo, tieni per il mostro vado! Eh, che cazzo ti vuoi fare puttana? Ah, non so mica... Ma lanciano l'unizio... Ah, non, lanciano l'unizio... Miro male che erano una miradina... Non lo ando mica perché... Dai, venite qua! Che cazzo spai che c'è la casa... No, è troppo lontano... Io ero nel setto andato! Fin caricatore! Dai, bella! Oh, ci ne sono altri! Ho messo la storia! No, no, va qualcuno! Tu non ci vieni! Ho messo la storia! Ahahahah! Oh! 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 Che è tuo male a questo gioco! L'unico... È troppo poco serio! Cioè è troppo... Capito? È più... Per quelli che adorano cazzeggiare... E star lì... È un po' portata... non dico a livelli estremi personalmente preferisco GTA 4 però sai com'è mi va a 4 fps quindi non credo che riuscirò a fare un video poi se vuoi preferite questo cazzo vostro e ma avete ferret maria stilwater cosa non mi sarei impegnato anch'io non ti conviene lascia che non occupiamo noi vaffanculo lo faccio per giorni ho capito adesso dovremmo fare intendo venire gli altri ci svegliere una nuova bassa oh perchè è all'alloggio abbiamo le armi insieme calma te shandy abbiamo un piano e certo che abbiamo un piano vi faremo il culo a tutti e ora siamo pure più forti perchè abbiamo le armi e non è cosa da poco e mo mi da tutte le cose ma non me ne frega un cazzo che cazzo me lo dici a fare l'ho tagliato perchè ce ne erano anche altri e mi sembrano tanto che ho tagliato quindi io termino qui spero vi sia piaciuto questo video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ciao 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 ciao